Una festa nel nome di Adriano e Lalla Olivetti e del patrimonio storico, architettonico, industriale, culturale e morale di Ivrea. Venerdì 7 giugno, il gesto simbolico della scopertura della targa per il patrimonio UNESCO e la consegna della pergamena che iscrive ufficialmente Ivrea nella lista come città industriale del XXI secolo sono stati momenti centrali a conclusione di dieci anni di candidatura. Hanno aperto soprattutto un futuro di promozione e valorizzazione come sottolinea il segretario generale della fondazione Olivetti, Beniamino De Liguori. Con la scopertura della targa, sentimento chiaramente di grande soddisfazione anche un po' di fatica e di riposo dopo dieci anni di lavoro ma soprattutto penso, credo e anche mi auguro che sia in primo luogo l'occasione davvero per iniziare a fare di Ivrea non più un luogo solo di produzione industriale ma un luogo di produzione di idee e di valori che erano quelli di Adriano Olivetti e che il riconoscimento UNESCO incarna. Tanti gli amministratori locali del Canavese presenti, insieme a sindaci, cittadini, appassionati, studenti di architettura e piccoli alunni delle scuole della città. A riprova che finalmente la popolazione comincia a comprendere il valore di questo riconoscimento. Io mi auguro che capiscano che questo è l'inizio di un percorso di ricrescita della città e di sviluppo del territorio. Questa è la cosa fondamentale perché se no è semplicemente uno spillino messo sulla reverde la giacca. La città metropolitana di Torino è intervenuta con il vice sindaco Marco Marocco che ha confermato la più ampia disponibilità a lavorare per promuovere insieme questo inestimabile patrimonio dell'umanità. Grande risultato che ci porta a prendere ancora un ulteriore impegno, oltre a quelli già presi, per portare questo concreto successo a qualcosa di più grande, di più vasto sul nostro territorio perché questo rappresenta un punto di inizio, un punto concreto di inizio dove città metropolitana deve articolarsi su tutte le sue funzioni per dare forza ai territori. Quindi essere collante anche di quello che è la nuova imprenditoria, di quel rilancio, di quella voglia di rivincita che questi territori ex industriali hanno proprio nel sangue, la voglia di rivincita. Noi ci siamo.